Ciao a tutti e benvenuti nel canale. In questo video voglio parlarvi di questo. A mio avviso il re dei mouse da gaming. Ne ho provati tantissimi in questo periodo, ma come il Logitech G903 non ne ho trovati di meglio. Il Logitech G903 ha un costo all'incirca di 100 euro, 150 più o meno. Il range va dai 100 ai 150. Ora non ricordo con esattezza il prezzo preciso, ma comunque ha un costo di questo tipo qua. Il Logitech, a differenza di altri mouse, non ha una superficie ruvida, classica praticamente. Quei mouse che sia la superficie del dorso sia quella laterale hanno al tatto un effetto ruvido, che tende poi nel corso del tempo a consumarsi per via del sudore. Ma ha una superficie liscia, non troppo, quindi è una via di mezzo tra ruvida e liscia, sia per quanto riguarda il dorso che il laterale. Naturalmente, provenendo da un Logitech G900, questo è un 903, che è praticamente come design lo stesso, dopo diversi anni tende a consumarsi di lato e sul dorso. Adesso vi prendo il vecchio mouse e vi faccio vedere che cosa intendo. Questo è il mouse G900 di Logitech che ho utilizzato per diversi anni. Come potete vedere, tende a consumarsi qui e sul lato qui, praticamente. Però è una cosa che, anche un po' qui, è una cosa che avviene dopo diversi anni. Cioè, perlomeno a me è successo dopo diversi anni. Che con il tempo, utilizzandolo oggi, domani, dopodomani, sessioni intense di gaming e lavoro, si è consumato in questo modo qua. Ma è una questione di anni. A differenza di alcuni mouse che ho provato, che nel corso addirittura di pochi mesi già avvertivo i primi difetti estetici, relativi appunto al consumo della periferica. Questo mouse, a distanza di diversi anni, ecco, potrebbe diventarvi in questo modo qua. Dipende poi, ovviamente, da voi se sudate eccessivamente oppure no. Il mouse è estremamente comodo. Se dovessi dare un punteggio da 1 a 10, sicuramente darei un bel 9. Anche un 9 e mezzo. Perché è veramente comodo. Io ho provato diversi mouse in questo periodo e vi posso garantire che questo mouse, per lunghe sessioni di gioco e per lavoro non vi stancherà la mano. È veramente comodissimo. Io ve lo consiglio. Ha un costo elevato, ma a mio avviso è il re dei mouse da gaming. Come potete vedere, presenta un LED all'interno del logo Logitech che cambia colore. Naturalmente, se volete magari tenerlo fisso verde, rosso, blu o di qualsiasi altro colore, c'è il software apposito che vi permette appunto di regolare l'illuminazione. Altrimenti lo lasciate così che fa la sua bella figura. Il mouse è modulare, in un certo senso, perché questi tasti laterali possono essere rimossi all'occasione. Naturalmente non potete sostituirli con altri pezzi, quindi o rimuovete questi pezzi oppure li installate. Naturalmente, se li rimuovete nella confezione, troverete il supporto che si adatta appunto allo stesso materiale laterale che quindi rimuove i pulsanti. Se invece volete avere la possibilità di utilizzare il mouse da entrambi i lati o di avere più pulsanti, nella confezione comunque troverete questi pulsanti da installare perché di default, diciamo, sono posizionati a sinistra. Mentre se siete mancini potete posizionarli anche a destra oppure solo a destra. A voi la scelta comunque. A differenza di questo mouse, adesso vi mostro la parte sottostante, c'è da dire che il G903 ha la possibilità di applicare un pesetto per rendere il mouse più pesante, più, diciamo, solido nell'impugnatura. Come vedete, praticamente, i pulsanti che nel G900 erano collocati nella parte sottostante vengono spostati in alto perché in basso c'è appunto questo supporto che una volta rimosso in questo modo, quindi facendo leva qui e tirando in alto, questo nasconde il pesetto che è incluso nella confezione e che spetta a voi, naturalmente, installarlo a seconda delle esigenze. Il mouse ha una particolarità, scusate, bellissima, che non ho trovato in nessun mouse. È vero, non ha uno scroller orizzontale, ma ha questa cosa. Praticamente, premendo questo pulsante, voi potete cambiare il tipo di utilizzo dello scroller. Ma se voi lo premete e fate così, scusate, come vedete, lo scroller continua a girare. Ora vi starete chiedendo, ma a che cosa serve? Se magari vi trovate in una pagina web e dovete scorrere alla fine, praticamente, o alla metà, comunque dovete scorrere giù, basta premere questo pulsante e fare così. Quando dovete fermarvi, lo bloccate. C'è questa caratteristica, non l'ho trovato in nessun mouse fino adesso, e è davvero ottima. Questi due pulsanti, invece, permettono di cambiare DPI, quindi passare da una configurazione all'altra. Questo mouse arriva fino a 16.000 DPI, ha diverse configurazioni a seconda delle vostre esigenze. È davvero ottimo per il gaming. Una cosa che non ha è, diciamo, la possibilità, non so se avete visto la recensione sul mouse di Corsair, il pulsante che, una volta che lo premete, rallenta, diciamo, il cursore, soprattutto utile negli sparatutto. Questo mouse non ce l'ha. Però, per il resto, è un mouse da gaming, a mio avviso, migliore in assoluto. È estremamente comodo. È realizzato di materiali di alta qualità, wireless, attraverso il dongle che trovate nella confezione, è ricaricabile o utilizzabile con il cavo che trovate sempre nella confezione. È comoda l'impugnatura, si sposta sul tappetino, che è una bellezza, ha una potenza e una durata dieci volte superiore al G900. Esteticamente, invece, sono identici, tranne per la parte sottostante. Vi ho mostrato anche i difetti, per quanto riguarda la scocca, che tende a rovinarsi nel corso del tempo. Molto tempo, aggiungerei, a differenza di altri mouse che magari tendono a consumarsi più rapidamente. Per il resto, è veramente una periferica eccellente, ha un certo costo, gli vale tutti. Se siete interessati all'acquisto, la trovate su Amazon.